Musica Ciao a tutti siamo qua a Vito, oggi presentiamo i triangoli e criteri di congruenza La storia sui triangoli ha origini antichissime, praticamente è partita più di 2000 anni fa nell'antica Grecia Ed è partito tutto da un certo Euclide, Euclide era un matematico della greca antica Che è vissuto probabilmente tra il 367 e il 283 avanti Cristo Ed è sicuramente il più importante, uno dei più importanti matematici, se non il più importante della storia antica Lui è noto appunto per aver compilato questo libro, il libro praticamente più letto di tutta la storia, dopo la Bibbia E ha compilato questo libro chiamato Gli elementi, che appunto vengono chiamati oggi Gli elementi di Euclide E in questo libro praticamente viene data una rappresentazione organica e completa della geometria Nella... appunto attraverso quest'opera Questa opera si divide in 13 libri I primi 4 libri parlano della geometria planimetrica Praticamente è quella geometria del piano Quindi parte tutto dagli assiomi, dai postulati che abbiamo già visto nella lezione precedente E quindi analizza le principali figure piane Partendo quindi dai poligoni, appunto quelli che oggi andiamo a vedere che sono i triangoli Poi in particolare le caratteristiche delle rette parallele, i quadrilateri E poi particolari tipi di quadrilateri E poi si sofferma in generale con altri tipi di poligoni Il quinto e il sesto libro contengono le principali proprietà dei segmenti e dei poligoni relativi alle proporzioni E poi dal settimo al decimo libro ci si dedica praticamente con l'aritmetica E quindi si analizzano i numeri razionali e i numeri irrazionali Quindi una parte puramente algebrica E poi gli ultimi libri, quindi quelli che vanno dall'undicesimo al tredicesimo Si chiudono con la geometria solida sostanzialmente Ecco, quello che andiamo a vedere oggi è il punto di partenza degli elementi Quindi dopo aver detto i principali postulati Andiamo appunto a vedere i triangoli Quindi andremo a vedere le caratteristiche dei triangoli E partiremo appunto dalla definizione generale Andremo a fare una classificazione dei triangoli in base ai lati E poi insomma proseguiremo con le varie caratteristiche E i vari criteri di congruenza Come abbiamo introdotto proprio nel test introduttivo E vedremo un pochino tutte queste caratteristiche Bene, se siete pronti Iniziamo dando appunto la definizione generale appunto di triangolo Quindi che cos'è sostanzialmente un triangolo? Un triangolo è praticamente un poligono con tre lati Quindi è un poligono con tre lati Praticamente, ecco, diciamo che Una classificazione che può essere fatta in base ai lati Classificazione in base ai lati Diciamo presuppone la presenza quindi di triangoli Che possono essere triangoli scaleni Quando praticamente i lati sono tutti diversi tra di loro Ci sono i triangoli isosceli Per i triangoli isosceli intendiamo praticamente Angoli, cioè triangoli che presentano due lati congruenti E il terzo non congruenti agli altri due In particolare questi vengono chiamati lato obliquo O semplicemente lato E questo lato che è diverso dagli altri due Viene chiamata la base Questo angolo nel triangolo isoscele Viene chiamato angolo al vertice Poi praticamente abbiamo i triangoli equilateri Che sono, che è praticamente un triangolo isoscele Su tutti e tre i lati Quindi equilatero Equi significa uguale E' equilatero Quindi equilatero vuol dire stessi lati Quindi praticamente stavolta lo chiamiamo semplicemente lato In questo caso Quindi non esistono angoli al vertice Ma il lato è uno solo Perché praticamente sono congruenti Adesso praticamente andiamo a definire il concetto di base e di altezza Praticamente se noi consideriamo un qualsiasi triangolo Che potrebbe essere scaleno E consideriamo uno qualsiasi dei suoi lati Se definiamo base uno qualsiasi di quei lati Di questi lati Quindi se ad esempio chiamiamo base Chiamiamo la base uno Praticamente alla base uno corrisponde un'altezza uno Dove l'altezza uno che cos'è? E' quel segmento che parte dal vertice opposto Ad esempio se chiamiamo questo triangolo ABC Se AB è la base uno Diremo che l'altezza di questo triangolo è definita in questo modo Quindi è definita come quel segmento che parte da un vertice E cade sul lato opposto Formando un lato, un angolo di 90 gradi In particolare questa qui appunto è l'altezza Chiamiamola altezza uno Perché è relativa alla base uno Quindi in generale quante basi ha un triangolo e quante altezze ha? Ha tre basi e tre altezze Prendiamo ad esempio un triangolo di questo tipo Se consideriamo questa come B1 Avremo H1 Che sarebbe questa Se consideriamo questa come B2 Avremo la sua altezza relativa Che sarebbe H2 E se consideriamo questa come B3 Arriveremo come altezza 3 Andremo praticamente a dire che tutte le altezze Si incontrano in un punto In un unico punto Chiamato orto-centro Che non è il centro dell'orto Ma orto Che battutona Ma orto praticamente si riferisce Praticamente al tipo Che le altezze sono ortogonali rispetto alle basi Cioè rispetto alle basi formano angoli Che sono praticamente considerati retti Non tutte le altezze quindi cadono sulla base Potrebbero cadere anche sul prolungamento della base Ad esempio se noi prendiamo questo triangolo E consideriamo questa come la base Di solito questo si presenta nell'ottusangolo Poi andremo a dire meglio cosa si tratta Praticamente l'altezza in questo caso È quel segmento che parte da questo vertice E cade perpendicolarmente sul prolungamento della base In questo caso Quindi poi Proseguendo con Abbiamo visto quindi le altezze Adesso ci occupiamo di vedere invece che cosa sono le mediane Quindi Che cos'è una mediana di un triangolo? La mediana di un triangolo è quel segmento Diamo una definizione Che parte da un vertice E cade Perpendicolarmente Questo è il simbolo di perpendicolarmente Perpendicolarmente E cade E cade Scusate E cade Questa era l'altezza E cade a metà Del lato opposto Quindi che cosa significa? Quindi Vuol dire che Se noi prendiamo un triangolo ABC Allora Praticamente ABC Se chiamiamo M Il punto medio di AB Cioè che divide AB in due parti congruenti Definiamo la mediana CM Relativa alla base AB O al lato AB Come quel segmento Che parte da C Che è il vertice opposto ad AB E cade Tagliando AB in due parti congruenti Quindi cade esattamente a metà del lato opposto Naturalmente Se considero questa come una base Avrò una mediana Se poi prendo il valore medio di CB E traccio da A Il segmento che parte Da A E appunto cade su CB Tagliandolo a metà Quindi avrò la mediana Relativa a CB Analogamente Se parto da B E divido a metà Il lato CA Posso individuare in questo caso CH Questo è CN Come l'altra Cioè BH Come l'altra mediana Tutte le mediane Si incontrano in un punto Chiamiamolo K Dove K si chiama Il baricentro Il baricentro È anche praticamente inteso Come il punto di equilibrio Del triangolo A quel punto qui Poi abbiamo Le bisettrici Che cosa sono le bisettrici Di un triangolo Sono anche in questo caso Dei segmenti Che partono Da un vertice E Dividono L'angolo In due parti Congruenti Che cosa si intende Questo qua Quindi dividono l'angolo Esattamente a metà Quindi se noi prendiamo Ad esempio In questo caso Il triangolo A BC E ci rivolgiamo Ad esempio Al Vertice A Se dal vertice A Facciamo partire Una semiretta Che incontra Il lato opposto Fino a incontrarlo Nel punto H E che divide Esattamente A In due parti Congruenti Dirò che Praticamente AH È Bisettrice Del vertice Cioè Dell'angolo A Se invece Praticamente Dal vertice B Faccio la stessa cosa Quindi Vado a Dividere L'angolo in B In due parti Congruenti E Supponiamo K Al punto Di intersezione Con CA Praticamente Definisco Che BK Sarà la Bisettrice Relativa In questo caso All'angolo in B Analogamente Posso affermare Che se da C Faccio partire Questo Semiretta Questo segmento Che parte da C E taglia Praticamente Il lato opposto In In E Dirò Che Praticamente CE È la Bisettrice Che Divide a metà L'angolo È la Bisettrice In questo caso Dell'angolo in C Tutte Le bisettrici Si incontrano In un punto E questo punto È chiamato In centro Che quando Andremo avanti Vedremo che sarà Proprio il centro Della circonferenza Circoscritta Bene Da qui Praticamente Proseguiamo Con I Criteri Di congruenza Dei triangoli Allora Fino adesso Abbiamo visto I primi due Criteri di congruenza Adesso Ci muoveremo Praticamente Vedendo Altre caratteristiche In particolare Cercheremo di applicare A questi due Criteri di congruenza Per capire Qualche cosa Circa Il triangolo Isoscele E quindi Adesso Vedremo Un attimino Di applicare Questo concetto Cioè Noi sappiamo Dall'elementare Insomma Degli studi O no Se non lo sapete Ve lo dico io adesso Che in un triangolo Isoscele Dove ci sono Due lati congruenti Ci sono anche Due angoli congruenti Provare a disegnare Per credere Ci sono i due angoli Alla base Adesso Noi Metteremo in atto Un ragionamento Che sfrutterà Il primo E il secondo Criterio Per dimostrare Che se In un triangolo Isoscele Che in un triangolo Isoscele Cioè in un triangolo Che presenta Due lati congruenti Esso ha anche I due angoli E la base congruenti E la base congruenti E dimostreremo anche Che un triangolo Che ha due angoli congruenti Avrà anche Due lati congruenti Quindi faremo Questa dimostrazione Ora quindi Voglio dimostrare Questo teorema Allora Voglio dimostrare Che in un triangolo Isoscele Gli angoli E la base Sono congruenti Quindi praticamente Noi prenderemo A riferimento Il nostro triangolo Isoscele Che praticamente Sarà il nostro triangolo ABC In cui assumeremo Che i lati obliqui AC e CB Siano congruenti Quindi supporremo Per ipotesi Che AC lato Sia congruente A BC lato Voglio dimostrare Come tesi TH Che l'angolo in A Cioè quest'angolo È congruente All'angolo in B Come facciamo A dimostrare Quindi facciamo La dimostrazione Allora Per dimostrare Che cosa facciamo Cominciamo a tracciare Quindi traccio La bisettrice CH Quindi la bisettrice CH Praticamente È quel segmento Che parte dal vertice E divide l'angolo In due parti congruenti A quel punto Una volta tracciato La bisettrice CH Che sarà tale Per cui L'angolo ACH Sarà congruente All'angolo H HCB L'importante È mettere Sempre Il punto centrale Che è il perno Dell'angolo Quindi ACH HCB È scorretto Dire CBH Perché sarebbe L'angolo in B Come se dico BHC Sarebbe l'angolo in H Quindi avranno Saranno due congruenti In virtù del fatto Che appunto CH È la bisettrice Adesso cosa faccio Quindi considero I triangoli ACH E i triangoli HCB Essi hanno CH In comune In comune Vuol dire che Vale per entrambi Cioè è un lato Comune A questi due Triangoli Poi hanno AC congruente ACB E hanno L'angolo in C Cioè l'angolo ACH Congruente Al lato HCB Per Motivazione Per costruzione Perché l'ho tracciata Io per costruzione Io per costruzione Quindi Considerando questi due Triangoli Ho detto che hanno Due lati congruenti E l'angolo tra essi Compresi Quindi essi sono congruenti Per il primo criterio Quindi questa cosa Implica che Il triangolo ACH È congruente Al triangolo HCB Quindi per Motivazione Per il primo Criterio Di congruenza Dei triangoli Questa cosa Significherà Anche Che L'angolo in A Sarà congruente All'angolo in B L'angolo in A Sarà congruente All'angolo in B Poiché Elementi Corrispondenti In triangoli Congruenti Cosa significa Elementi Corrispondenti Vuol dire che Se considero L'angolo in A E l'angolo in B Sono opposti Al lato che hanno In comune Quindi se i due Triangoli sono congruenti I lati opposti Sono congruenti Agli angoli opposti E gli angoli opposti Sono congruenti A lati congruenti Cioè Angoli opposti A lati congruenti Sono tra di loro Congruenti Così come Lati opposti Ad angoli congruenti Sono tra di loro Congruenti E con questo Io ho dimostrato La mia tesi Si potrebbe Si potrebbe però Andare oltre Il fatto Praticamente Che questi due Triangoli Siano congruenti Significa Anche Delle altre Implicazioni In particolare Che Il H È congruenti Ad hb Quindi Un'altra Implicazione È che Anche Qui è finita La mia dimostrazione Però se io voglio Continuare Con le implicazioni Cioè Volessi continuare Questo teorema Scoprirei anche Che H È congruenti Ad hb Sempre Per lo stesso motivo Elementi Corrispondenti Ma questo Quindi Se Ch Divide in due Lato opposto Vuol dire che Ch È anche Mediana Quindi Ch È Mediana La mediana È quel segmento Che parte dal vertice Divide in due Lato opposto Ma considerando I due angoli H C Congruente A Chb Cioè Quest'angolo Congruente A questo Ma posso Affermare Che Sono la metà Di 180 gradi Cioè Di un angolo Piatto Quindi sono 180 diviso Due Sono 90 gradi E 90 gradi È praticamente Un angolo Retto Che si forma Un angolo Rettangolo E quindi Significa Anche Che Se questa Bisettrice Cade a 90 gradi Sul lato opposto Significa Che è anche Altezza Quindi L'altezza È quel segmento Che parte Da un vertice E Cade Perpendicolarmente Sul lato opposto Quindi Questo significa Che Ch È perpendicolare Ad Ab Quindi Ch È perpendicolare Questo è il simbolo Di perpendicolarità Ad Ab Quindi Significa Che Ch È Altezza È anche Altezza Quindi Io ho dimostrato Il mio teorema Che in un triangolo In un triangolo Isoscele Gli angoli e la base Sono congruenti Ma ho dimostrato Anche che la bisettrice È anche Altezza Mediana Adesso Dimostreremo Il teorema Inverso Del triangolo Isoscele Teorema Inverso Del Triangolo Isoscele Cioè Prima Praticamente Ho dimostrato Il teorema Diretto Del triangolo Isoscele Il teorema Diretto Affermava Che se un triangolo Isoscele Cioè se due lati Sono congruenti Gli angoli e la base Sono congruenti Qui Dimostrerò L'inverso Che se in un triangolo Gli angoli e la base Sono congruenti Esso Isoscele Quindi Praticamente Andiamo A Dimostrarlo In questo modo Quindi Facciamo il nostro Triangolo Quindi A B C Quindi Per ipotesi Sappiamo che L'angolo in A È congruente L'angolo in B Quindi A angolo Congruente A B angolo Devo dimostrare Come tesi Che AC È congruente A CB Come faccio A dimostrarlo? Allora Prima di tutto Prolunghiamo Il lato AC Dalla parte di A E il lato CB Dalla parte di B Di due segmenti Rispettivamente Che chiameremo AD E AD E BE Tali per cui AD È congruente A BE E poi E poi Congiungo D con B Ed E con A Quindi Vabbè Non sto a scrivervelo Quindi Segnatevelo Quindi Vabbè Di due segmenti Di due segmenti Rispettivamente AD E BE Tali che Quindi questo è il simbolino di tali che Posso anche scrivere TC Tali che AD È congruente A BE A questo punto Devo prendere In considerazione Alcuni triangoli Allora La prima coppia di triangoli Che prendiamo Ve li segno Rispettivamente Con il rosa E con il grigio Sono questi due triangoli Quindi A questo punto Considero I triangoli ADB ABD è la stessa cosa E A E B E cito gli elementi Quindi Hanno sicuramente AD Congruente A BE Per costruzione AD Congruente A BE Per costruzione Hanno AB In comune Quindi Due lati Sto citando E poi Hanno Sicuramente L'angolo Tra essi Compreso Congruente Cioè Quest'angolo verde Congruente A quest'angolo verde Quest'angolo verde Lo chiamerò DAB Angolo Congruente A EBA Perché Sono Supplementari Ad angoli Congruenti Supplementari Supplementari Infatti Quest'angolo Più quest'angolo Danno 180 gradi Anche Questo Più questo Danno 180 Ma Questo Congruente A questo Quindi Anche I loro Supplementari Sono Congruenti Quindi Sono Supplementari Ad angoli Congruenti Questo Significa Che i due Triangoli Sono Congruenti Quindi Che ABD Triangolo È Congruente Ad A e B Triangolo Quindi Per Che cosa Per il primo Criterio Di congruenza Questo Significa Che L'angolo In D È Congruente All'angolo In E Quindi D angolo Congruente Ad E angolo A questo Punto Prendo in Considerazione Dei triangoli Un pochino Più Grandi Quindi Prendo in Considerazione Quest'altra Coppia Di triangoli Qui Avevo Considerato ABD Che ho Segnato In rosa E come Vedete Anche Nella Figura E l'altro Che ho Segnato In grigio Il grigio Mi è scappato Quindi Immaginate Che ci sia Il grigio Di qua Adesso Prendo in Considerazione Quest'altra Coppia Quindi Prendo in Considerazione Questo Che è Il triangolo D B C E Il triangolo E A C Quindi Adesso Magari Scriviamolo Un po' Vi lascio La figura In parte Però Devo Proseguire Su un altro Foglio Perché Se no Non riuscite A capire Quindi Adesso Guardate La figura Considero Vi metto Sotto La figura Adesso Faccio la figura In parte Scriverò La dimostrazione Adesso Sto Considerando Quindi Considero I triangoli I triangoli D B C D B C Triangolo E E A C Ok Quello Quello Che vi ho Segnato Rispettivamente In viola Che è D B C E Quello Che vi ho Segnato In rosso Che è E A C Guardiamo Gli elementi Hanno Sicuramente D C Tutto Questo Lato E No Scusate Allora Ritorniamo un attimo Alla congruenza Di questi due triangoli Sicuramente Hanno Congruente L'angolo In B Ma Hanno Congruente Anche Questo Lato Qui Che è D B Con Questo Lato Qui Con A E Perché Se i due Sono congruenti Sicuramente Possiamo Affermare La congruenza Dei due Triangoli Un altro Elemento È che Quest'angolo Che è D B A Che vado a segnare Con una X È congruente All'angolo E A B Che vado a segnare Con la X Quindi queste Erano delle altre Conseguenze Che non abbiamo Ma che scriviamo Noi Quindi Sicuramente L'angolo In D Congruente All'angolo In E L'angolo D B A D B A Congruente A Praticamente E A B Sempre Perché Elementi Corrispondenti Questo In triangoli Congruenti T G Congruenti Il Sta per Elementi Cor Sta per Corrispondenti Tr G Sta per Triangoli Congruenti Quindi elementi Corrispondenti Triangoli Congruenti E appunto Il lato D B Congruente Al lato A E Il lato D B Congruente Al lato A E Quest'angolo Congruente A questo E anche Questo che ho Segnato Con la X Congruente A questo Che ho Segnato Con la X Quindi D B Congruente A E Quindi Date queste Premesse Se sto Considerando Questi due Triangoli Quindi Il triangolo Rosso E il triangolo Il triangolo Viola Che cos'è Che hanno Di congruenti Allora Hanno Possiamo affermare Che hanno Sicuramente Questo Congruente A Eh no Aspettate Allora Hanno Allora Quest'angolo Cioè Questo lato Congruente A questo Lato Quindi Hanno D B Congruente Ad A E Quindi D B Congruente Ad A E Per Dimostrazione Precedente Poi Hanno Sicuramente L'angolo In E Congruente All'angolo In D Quindi Di angolo Congruente Ad E Angolo Sempre Per Dimostrazione Precedente Poi Praticamente Abbiamo Che tutto Quest'angolo Qui Che è L'angolo E A C È Congruente All'angolo D B C Cioè Questo Grosso Qui Rosso Tenete Rosso Che è Dato Dalla X Più Questa Ondolina Con la Stanghetta È Uguale A Questa X Più L'ondolina Con la Stanghetta Che È L'angolo D B C Per Somma Di Angoli Congruenti Somma Di Angoli Congruenti Perché Questo qua Era congruente A questo Per ipotesi Questo qui Era congruente A questo Per dimostrazione Precedente Quindi la loro Somma Dovrà essere Congruente Quindi ho citato I due Triangoli Ho citato Un lato Questo Congruente A questo E i due Angoli Adesso Adiacenti Perché Prendiamo Il triangolo Rosso Questo È il lato Considerato Questi Sono i due Angoli Questo Grosso Formato Da due Angoli E questo Piccolino Col puntino Sono Adiacenti A questo Lato Lo stesso L'ho Fatto Per Questo Triangolo Ho citato Questo Lato E questi Due Angoli Adesso Adiacenti Quindi I due Triangoli Stavolta Sono Congruenti Quindi D B C Triangolo Congruente A D A C Triangolo Per Il secondo Criterio Di congruenza Dei triangoli Ma se i due Triangoli Sono congruenti Vuol dire che A C Sarà congruente A C B Quindi A C Lato Congruente A C B Lato Per Per Sempre Elementi Corrispondenti In Triangoli Congruenti Quindi C B Ho dimostrato La tesi Ciò Ho dimostrato Alla fine Che questo Triangolo È Isoscele Questo Congruente A questo Come voleva Si dimostrare Dimostriamo Ora Il terzo Criterio Di congruenza Allora Il terzo Criterio Di congruenza Afferma Questo Che se Due Triangoli Hanno Rispettivamente Congruenti Tutti e tre I lati Quindi Ad esempio Se AB È congruente A'B' Se BC È congruente A'B'C' E se CA È congruente A'C' C' 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 Quindi Se valgono Queste ipotesi Sostanzialmente È possibile Dimostrare La tesi Che i due Triangoli Sono congruenti Allora Per farlo Abbiamo bisogno Di un altro Movimento Rigido Quindi Adesso Immaginiamo Di traslare Rigidamente Questo Quindi Il vertice A sul Vertice A' Il vertice A'B' Sul vertice A'B' E di Ribaltare Il triangolo Avremo Praticamente Una cosa Di questo Tipo Quindi Immaginiamo Che la Traslazione Di A In A' Cioè Qui Coincida Con A Che poi È A' Perché A Si sposta Da A' A' Che coincide Con A' B Si sposta In B' Quindi Nel punto B' E C Viene Ribaltato Quindi immaginate Proprio di ribaltare Questo triangolo In modo che Questo vertice Si chiami C' Che non è altro Che Praticamente Sempre C' Ma C' C' Proiettato In questo modo A questo punto Che cosa facciamo Congiungiamo Praticamente C con C' E andiamo A considerare Praticamente Naturalmente Essendo Che questo C' 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 Congruente A quest' Adesso Che cosa Facciamo Quindi Vabbè C'è il solito Movimento Rigido Che ho appena Descritto Poi Andiamo a Considerare Il triangolo C' 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 A' C' 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 è congruente all'angolo questo, questo qua scusate, C' C' A' C' 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 A' Vedete che qua il centro è su C' qui il centro è su C' Praticamente sono quei due angolini che posso segnare con l'azzurro. Quindi, analogamente, se prendo in considerazione quest'altro triangolo, che è il triangolo C' C' B' Togliamo questi B' A' che confondono, quindi considero il triangolo C' C' B' E so che, cioè due punti, C' B' è congruente a B' C'. Vedete che li ho segnati con una stanghetta, che poi era la stessa stanghetta che ho messo su C' B'. Quindi B' C' C' Questo implica, scusate non ho messo la motivazione, questo qua è la motivazione per il teorema diretto del triangolo TRG isoscele. O posso anche mettere is, o posso anche mettere is, teorema diretto del triangolo isoscele. Qui posso ripetere lo stesso ragionamento, è un triangolo isoscele, quindi i due lati sono congruenti, i due angoli alla base li segniamo con la X, sono congruenti. Magari segniamoli col rosso, così è più evidente. Quindi posso affermare che C' 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 B' angolo è congruente a B' C' 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 angolo. E questo è sempre per il teorema diretto del triangolo isoscele. A questo punto che cosa faccio? Prendo in considerazione i triangoli A' C' B' A' C' B' e A' B' C' C' A' B' C' C' cioè quello sopra e quello sotto, considero. essi hanno A'C' congruente ad A'C', diciamo pure per ipotesi, non sarebbe per ipotesi perché in realtà però per la proprietà transitiva facciamo anche per ipotesi, tanto sapevo che questo era congruente a questo. Poi ho C'B' congruente a B'C', sempre per ipotesi, e poi ho che l'angolo è tra essi compresi, che è l'angolo A' che è tutto l'angolo C', quindi scrivo addirittura C', congruente all'angolo C' secondo, questo poiché sono somma di angoli congruenti, da questo ne deriva che i due triangoli sono congruenti, quindi A'B'C' triangolo, ho dimenticato il triangolino, è congruente ad A'B'C' triangolo per il primo criterio, quindi ho dimostrato il terzo criterio sfruttando il primo criterio C, V, D. E con questa bella tornata abbiamo finito i criteri di congruenza sui triangoli. Ci mancano, va bene, la prossima volta continuiamo, la prossima lezione, magari vediamo ancora delle caratteristiche sui triangoli social e poi continueremo i nostri ragionamenti, però i triangoli, i criteri sono dimostrati, quodest, dimostrandi. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Grazie a tutti.